18 e 21 Gli Etruschi si stabilirono tra la Toscana, il Lazio e parte dell'Umbria. Questo territorio prese il nome di Etruria. La religione. Gli Etruschi erano politeisti. Inoltre veneravano i loro antenati onorati come eroi. Erano un popolo molto religioso, le loro divinità ricordavano quelle greche. Tinia era la divinità principale e veniva raffigurata con un fulmine, esattamente come Zaus. Uni era compagna di Tinia simile alla dea greca Era. Menerva era simile alla dea greca Atena. Secondo gli Etruschi gli Dei parlavano agli uomini mediante segni e prodigi che dovevano poi essere interpretati. L'arte di indovinare la volontà degli Dei si chiama arte divinatoria. Esistevano tre tipi di sacerdoti indovini. L'arte di indovinare la volontà degli Dei si chiama arte divinatoria. Esistevano tre tipi di sacerdoti indovini. I fulguratores, che comprendevano il volere degli Dei osservando dalla delle alte torri la traiettoria dei fulmini. Gli auguri, che capivano il volere degli Dei dal volo degli uccelli. Gli eruspici, che leggevano il fegato degli animali offerti in sacrificio. Il culto dei morti. Gli Etruschi credevano nella vita dopo la morte e per questo prestavano grande attenzione al rito funebre e alla sepoltura. Realizzarono delle necropoli, cioè le città dei morti, sul modello delle città dei vivi. Le necropoli avevano strade principali e secondarie, piazze, mura e porte. Le tombe erano formate da una o più camere scavate nella roccia o nel tufo. Le pareti erano decorate con affreschi e rilievi che riproducevano scene di vita quotidiana e immobili e gli oggetti presenti nelle abitazioni dei viventi. Per decorare gli ambienti bui delle tombe si usavano colori vivaci e chiari. Esistevano vari tipi di tombe. Ipogee, scavate sottoterra, a tumolo, ricoperte con materiali di scavo in modo da formare un piccolo mucchio di terra, a edicola, costruite fuori dal terreno e simili a piccoli templi. I corpi dei defunti erano posti in sarcofaghi o in vasi funerari, in cui venivano messe le ceneri, vaso funerario o canopo. Il sarcofago degli sposi ha cerveteri un'urna funeraria in terracotta. I templi. I templi erano bassi e tutozzi e sorgevano nella parte alta della città, in uno spazio sacro che veniva indicato dall'augure. Aveva molti ornamenti, le antifisse e gli acroteri in terracotta con forme vegetali, animali e soprattutto figure sacre e demoniache. Comments 0 per Malink Trackback